E' tutto pronto per la quattro giorni dedicata ai mercatini di Natale con i treni della Transiberiana d'Italia. Oltre 50 cassette caratteristiche che ospiteranno circa 60 ambulanti, due cornici mozzafiato, piazze di Roccaraso e Campo di Giove. Sempre più carica e propositiva l'organizzatrice Valentina Latini, dittorare di Ofarie 20, traccia un primo bilancio dei numeri che quest'anno ci si aspetta come presenze. 3.500 viaggiatori in totale sui sette treni, oltre quello Capitanator al dopolavoro ferroviario. Oltre 15 le agenzie che si sono adoperate con giornate organizzate e finalizzate alla scoperta dei mercatini, un sold out totale di alberghi e ristoranti. Una macchina che unisce Ofarie e l'associazione Lerotai ed FS, che continua a funzionare e che porta quindi numeri sempre più alti. Già pronti i programmi dell'anno prossimo dove i treni si duplicheranno e interesseranno molte più giornate. Buon divertimento a tutti, auguro a Valentina Latini in attesa dell'avvio della quattro giorni.